Dal prossimo primo novembre il segretario del comune di Fevara, Calogero Marrella, lascia la carica. Ve lo avevamo anticipato qualche giorno fa in un nostro servizio giornalistico e adesso è ufficiale. Al suo posto il sindaco Rosario Manganella ha voluto Pietro Amorosia, al momento in servizio presso le sedi convenzionate di Campofranco e Ravanusa. Dopo la rimodulazione dei dirigenti si cambia quindi anche il segretario comunale. Amorosia sarà presente a Fevara come segretario il prossimo 19 ottobre alla riunione del Consiglio Comunale. Dopo un avviso pubblico due le domande pervenute da altrettanti aspiranti segretari comunali ma la scelta del sindaco è caduta su Amorosia.